Dopo che settimana scorsa abbiamo parlato del Mondiale Superbike presentiamo il Moto Mondiale in tutte e tre le categorie a partire ovviamente dalla MotoGP per poi concentrarci in maniera un po' più in stile parentesi su Moto2, Moto3 e MotoE quattro categorie dunque al servizio della Moto Mondiale che partirà l'8 di marzo in Qatar Ai microfoni Matthew Thorgard, presentazione dunque del Moto Mondiale partendo ovviamente dall'argomento principale, dall'argomento caldo che è la MotoGP ma prima di vedere i piloti più nel dettaglio di questa stagione 2020 andiamo a vedere quello che sarà il calendario 20 appuntamenti stagionali, uno in più rispetto alla scorsa stagione è stato inserito come undicesimo appuntamento stagionale il Gran Premio di Finlandia che avrà scena il 12 di luglio di quest'anno e l'autodromo sarà il Kimi Ring, autodromo testato già dai collaudatori delle principali casi motoristiche al termine della stagione scorsa è un Gran Premio che non è una novità assoluta perché l'ultimo episodio del Gran Premio di Finlandia si svolse nel 1982, anno in cui l'Italia vinse il campionato nel mondo ovviamente di calcio ma siamo qui per parlare di Moto Mondiale e oltre appunto al Gran Premio di Finlandia dove spero vivamente che il finlandese volante, il leggendario Micacaglio faccia una leggendaria comparsata appunto ha rappresentato diverse modifiche e novità per esempio che il Gran Premio di Thailandia è stato spostato al 22 di marzo come secondo appuntamento stagionale e per il resto non ci sono grassissime novità se non per l'inversione del Gran Premio di Germania con il Gran Premio d'Olanda per il resto tutto confermato il Gran Premio d'Italia, uno dei due quantomeno, quello del Mugello sarà fissato come settimo appuntamento stagionale il 31 maggio il Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini invece sarà il 13 di settembre al circuito di Misano si chiuderà il Moto Mondiale di quest'anno il 15 di novembre sempre ormai nella tradizionale corsa di Valencia altra modifica importante c'è stato un ulteriore swap tra il Gran Premio degli Stati Uniti e il Gran Premio di Argentina cambia comunque poco nel senso che prima veniva l'Argentina e poi gli Stati Uniti adesso sarà il contrario ma concentriamoci sulla lista di partenza dei piloti che andranno a competere per il Mondiale 2020 e subito apriamo un tema importante che di fatto dà il titolo a questo video veniamo da un Mondiale 2019 veramente orrendo nel senso che è stato il più scontato, il più brutto, il più dominato degli ultimi anni anche perché è stato ipervinto da Marc Marquez che ha vinto il suo ottavo titolo complessivo, sesto in classe regina veramente stracciando gli avversari in questo Mondiale scorso il 93 ha dimostrato di non avere rivali la moto è fatta esclusivamente per lui le altre onde hanno fatto veramente fatica cracciolo a parte e Marquez ha dato veramente la sensazione di essere veramente di tre spanne sopra gli avversari e l'avversario di turno che cercava di competere per qualche vittoria di tappa che fosse Dovizioso, che fosse Alex Rins e in qualche gara anche Fabio Quartararo dava veramente l'impressione di non potercela fare anche perché molto spesso Marc Marquez ha avuto la capacità di accelerare un attimino quando serviva e decidere lui di fatto quando vince era veramente un Mondiale orrendo quello del 2019 c'è il punto da chiedersi se il 2020 ricalcherà la stessa falsariga del 2019 oppure no d'accordo che in questi test invernali Marquez è in condizioni precarie perché si è fatto male alla spalla, si è operato e comunque ha reso molto meno nei test invernali rispetto alle aspettative d'accordo che i test invernali contano da 0 a meno 2, meno 10 ma il discorso è che veniamo appunto da queste premesse qui Marc Marquez potrebbe ovviamente essere considerato come il legittimo favorito anche nel Mondiale 2020 nella speranza che non si assista a una noia mortale come lo scorso anno tra l'altro la cosa incredibile è che come vedete Marc Marquez ha compiato compagno di squadra e anche del suo compagno di squadra c'è da parlare abbastanza perché al di là del fatto che è il fratello Alex a fare da compagno di squadra a Marc ci troviamo di fronte a una coppia che tra tutte le classi ha ottenuto 10 titoli mondiali di cui l'ultimo di Alex Marquez veramente scandaloso ma non perché sia un Marquez, attenzione ma perché è un titolo che va veramente contestualizzato perché Alex Marquez correva da una vita in Moto2 sempre nello stesso team il team Mark VDS dove lo vedete qui rappresentato e è riuscito finalmente a vincere il suo titolo del mondo Moto2 dopo 5 anni che era lì dopo che tutti gli avversari più forti che erano in Moto2 sono passati in MotoGP quindi vari bagnaia, morbidelli e chi più ne ha più ne metta e ovviamente è riuscito a vincere contro il venerabile maestro Thomas Lutti in un mondiale dove Baldassarri è parito bene poi si è steso ed è sparito il venerabile maestro Lutti appunto ha fatto quello che poteva è salito in rampa di lancio Augusto Fernandez però il titolo di Alex Marquez come appunto avete capito è un titolo di fatto che ha vinto da solo non c'erano altri pretendenti ipercredibili nel mondiale Moto2 della scorsa stagione e Marquez comunque è riuscito a vincerlo sempre rimanendo nello stesso team migliorando per carità pian piano durante le gare però è un campione del mondo Moto2 che appunto ha vinto in questo tipo di contesto tant'è vero che appunto con i vari bagnaia, morbidelli e compagnia le ha sempre prese e ha vinto anche sempre molto meno di quello che è comunque il potenziale è più meritato probabilmente il titolo Moto3 vinto nel 2014 se dobbiamo proprio paragonare le due vittorie ma siamo qui dunque per assistere anche all'esortio del fratello di Mark Marquez fortemente voluto dal 93 che ha fatto fuori Orge Lorenzo già la Honda fa una moto solo per Mark Marquez con un stile di guida tutto suo e gli altri veramente si attaccano al tram Lorenzo non ci ha capito un cazzo l'anno scorso con la Honda e si è di fatto ritirato anche se adesso fa il collaboratore per la Yamaha che anche lì ci sarà da parlare abbastanza e adesso la coppia è questo incredibile team dei fratelli Marquez che probabilmente sarà un team affiattato per i prossimi anni a venire questa per quanto riguarda la Honda ufficiale Honda Clienti che invece conferma Cal Crutchlow che potrebbe essere l'ultima stagione della carriera e spero veramente riesca a vincere almeno una gara quest'anno il buon Cal anche se visto l'anno scorso la vedo abbastanza grigia confermato anche Takahaki Nakagami che è la migliore stagione della carriera in MotoGP seconda forza in campo di fatto l'anno scorso dopo la Honda per questo video come avete capito sto seguendo di fatto la classifica dello scorso anno c'è stata la Ducati con il team ufficiale che ha confermato Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Andrea Dovizioso è riduce dal suo terzo secondo posto consecutivo in questo campionato del mondo ovviamente con il Marquez dell'anno scorso non c'era niente da fare è già tanto che ha vinto un paio di gare e sicuramente fare meglio dell'anno scorso è almeno il minimo per Ducati ancora una volta che ha deciso di dichiarare le sue intenzioni di vincere un mondiale ripeto va tutto contestualizzato perché se il Marquez dalle prime gare dimostra di avere un dominio incredibile e fa sempre primo o secondo potete metterci anche la combinazione tra Valentino Rossi Prime Stoner Prime e tutti i piloti forti che volete del motociclismo che evidentemente Marquez non si batte Dovizioso dovrà cercare di essere più costante rispetto a quello che è cercare di partire bene al di là del fatto che in Qatar la Ducati potrebbe avere qualche speranza in più di Vittorio rispetto ad altre piste perché il Qatar è una pista favorevole della Ducati storicamente c'è da migliorare secondo me in quella che è la prima parte della stagione quindi quelle gare oltre Oceano lo vedo Vizioso è sempre faticato non sarà facile la Ducati è sempre una moto difficile da guidare da linea ha comunque reso una moto molto competitiva rispetto ai tempi magari di Capirossi per dire e insomma ci sarà veramente da tenere d'occhio Andrea Dovizioso che potrebbe essere all'ultima stagione non si sa potrebbe essere mandato a quel paese da Ducati per far posto a qualcun altro dei team clienti non si sa Ducati ancora una volta ha dimostrato di non sapere cosa fare per il mercato piloti anche perché non siamo neanche arrivati alla stagione di inizio del 2020 si è già pensando al 2021 che è incredibile e Dovizioso sembrava dovesse di fatto correre da separati in casa per la Ducati consapevole che sarebbe andato via invece con il fatto che hanno tutti più o meno confermato i big Dovizioso probabilmente rimarrà in Ducati e Petrucci dovrà ancora una volta giocarsi le sue carte Petrucci che ha vinto la prima gara con la Ducati l'anno scorso al Mugello in una grande lotta con Marquez e lo stesso Dovizioso Petrucci che dopo aver vinto al Mugello in realtà si è spento clamorosamente e addirittura il buon Jack Miller che è stato confermato nella Ducati Pramac insieme a Francesco Banai ha fatto sicuramente meglio io per esempio vedrei molto di più un Miller nella Ducati Ufficiale anche a continuare la tradizione degli australiani in Ducati Stoner su tutti e Troy Bayliss insomma due leggende clamorose che insomma a tutti di voi su Ducati come me una lacrimuccia la fanno sempre scendere Ducati Pramac che appunto anche con Francesco Banai fornirà una moto ufficiale in tutto e per tutto al team toscano e dunque saranno 4 le Ducati Ufficiali in pista la GP20 avrà 4 punte sperando che comunque possano dare fastidio ad una Honda che ancora in quest'era moderna sembra essere il binomio imbattibile soprattutto con Marquez e vediamo se anche la Honda saprà fare una moto apposta per Alex Marquez l'anno scorso era una moto fatta solo per Mark e chissà se anche il fratello possa comunque già competere per le posizioni da podio la vedo veramente grigia secondo me Alex Marquez è più da primi 10 ma passiamo comunque agli altri piloti in pista concludendo un attimo il discorso Ducati qui potrà fare probabilmente la comparsa anche in questa stagione ma comunque qualcuno che deve arrivare ultimo ci deve essere in tutte le categorie è ritornato dalla finestra Johan Zarco che nel 2019 ha fatto una gara con KTM una prima parte di stagione meglio disastrosa con KTM KTM l'ha mandato a fanculo e ha sostituito Zarco con il leggendario Micaccaio il goto del motociclismo Zarco si è riciclato nella Honda di Cecchinello doveva andare alla Honda al posto di Lorenzo che però ha preso il fratello di Marquez e di fatto Zarco è rimasto a piedi nel frattempo per una grazia ricevuta il team Avinzia manda a fanculo Karel Abraham e tessera di fatto Johan Zarco che anche lui ha una GP19 che però è di stampo prevalentemente semi ufficiale dunque il francese potrebbe puntare almeno alla top 10 non sarà facile perché comunque nella metà della classifica veramente se la giocano in tantissimi e attenzione perché l'acquisto di Zarco potrebbe spalancarli in futuro le porte del team ufficiale chi lo sa probabilmente non è una mossa fatta a caso ne riparleremo nel 2021 e a proposito di 2021 parliamo della Yamaha perché la Yamaha ha già effettuato le mosse per il mercato 2021 ed è clamorosa questa cosa perché dobbiamo ancora iniziare con la prima gara del 2020 e invece parliamo già del 2021 probabilmente hanno già per scontato che Marquez vincerà anche questo mondiale vabbè fatto sta che Maverick Vignales non solo correrà nel 2020 per quanto riguarda la Yamaha ufficiale ma anche nel 2021 e il compagno di squadra dello spagnolo sarà il numero 20 francese Fabio Quartarro che ha avuto la grandissima stagione di esplosione la scorsa stagione scusate il gioco di parole nel 2019 Quartarro ha collezionato un'infinità di poti è stato il rucchi dell'anno non ha centrato la vittoria perché appunto le volte che sono entrato con Marquez lo spagnolo ha fatto quello che voleva e all'ultimo giro passava sistematicamente Quartarro dimostrando di avere veramente una marcia in più e Quartarro andrà a sostituire di fatto Valentino Rossi nel team ufficiale un Valentino Rossi che correrà nel 2020 la sua ultima stagione nel team ufficiale e a 41 anni è ancora comunque una persona che tenterà la grandissima impresa del decimo titolo che la vedo veramente impossibile pur non essendo un tifuso di Rossi però cerchiamo di essere obiettivi Rossi doveva secondo me fare già un passo indietro addirittura alla fine del 2019 una stagione che non lo ha visto per niente competitivo se non per due podi per carità la voglia di correre la fa sempre da padrone a 41 anni è anche commovente a tratti vedere un pluricampione correre ovviamente insomma un pilota della sua caratura fa sempre un po' specie vederlo lottare con Nakagami tanto per dire nelle posizioni di centro classifica non sono mancate soprattutto nella scorsa stagione le prestazioni verso l'ottavo non opposto con prestazioni orrende in qualifica per carità non si chiede a Rossi di vincere tutte le gare possibili e immaginabili però una riflessione sul futuro del numero 46 che era stato anche considerato ancora a 40 anni il faro della Yamaha ufficiale prima dell'esplosione di Quartarro e anche della Cristo di Vignales insomma fa abbastanza riflettere sulla direzione che Yamaha poteva prendere e non ha preso decisione che ha preso già subito ed è una decisione condivisibile per fare un team giovane molto promettente e chissà che Valentino Rossi possa continuare a correre dopo il 2020 il tema è anche questo si parla di un dream team con il ritorno di Lorenzo incredibile nella Yamaha satelite del team SRT e anche lì il povero Franco Morbidelli che cosa può fare in questa stagione doveva dimostrare di meritarsi un posto a discapito di queste voci che secondo me sono fantamercato però Morbidelli di certo è tutto forché un pilota fermo e sarà importante per il numero 21 a continuare a crescere dopo una comunque buona stagione l'anno scorso che è stata comunque oscurata da Fabio Quartararo in ogni caso l'italiano di origine brasiliana verrà seguito con molta attenzione dal sottoscritto sul futuro delle mani abbiamo già detto vedremo che cosa saprà combinare la casa giapponese vedo più un Vinales e un Quartararo sugli scudi con un Rossi che mi auguro non faccia la figura dell'anno scorso che risultava sistematicamente la peggiore delle Yamaha eppure comunque c'è molto risalto sulle prestazioni di Rossi anche quando va in bagno però è evidente che Rossi ha un potere politico e mediatico incredibile così come c'è la Marquez in Spagna quindi insomma va tutto contestualizzato e da un certo punto di vista ci sta io non lo trovo molto bello perché comunque le corse sono altre non soltanto le divisioni di tifo Rossi-Marquez ma comunque andiamo avanti nel nostro discorso e parliamo delle altre marche che sono presenti in questa categoria ha fatto molto bene la Suzuki l'anno scorso che ancora una volta presenta due sole moto in pista la prima è quella di Alex Rins che è il pilota di punta della casa giapponese ed è confermato Juan Mir che ha fatto una stagione altalenante la scorso campionato a volte ha saltato delle gare per infortunio la Suzuki è una moto che in qualche gara soprattutto nelle piste che in realtà sono molto larghe adatta alla Formula 1 Austin e Silverstone ha pure vinto delle competizioni con Alex Rins chissà che la Suzuki non possa fare ancora una volta il salto di qualità proseguiamo con Aprilia e anche qui c'è un grande discorso da fare perché è stato confermato Alecce Spargarò che è il pilota di punta della scuderia di Noale evidentemente per risultati c'è stato anche la conferma di Andrea Annone ma vedete che Wikipedia inglese giustamente ci mette di fianco un asterisco l'asterisco è perché nella off-season di fatto Annone è stato trovato positivo ad un controllo antidoping Annone in questo momento sarebbe squalificato e l'Apriglia effettivamente dovrebbe cercare di cautelarsi con un eventuale secondo pilota se la sentenza di squalifica dovrebbe dovesse scusatemi protrarsi oltre la gara inaugurale del Qatar Massimo Rivola la D di Aprilia Racing ha detto che la sentenza dovrebbe arrivare prima della prima gara si parlava di un rientro di Kyle Abraham al posto di Annone o di promuovere Bradley Smith da collaudatore a secondo pilota quindi la presenza in questo momento di Annone mentre registrando questo video è subiudice per il resto vedremo che cosa dirà la sentenza comunque Annone nel merito viene da una stagione veramente orrenda e disastrosa qualche volta ha battuto a lei Cespargero ma da un pilota molto talentuoso come lui sicuramente ci aspettava di più la scelta sbagliata sicuramente è stata quella di andare via dalla Ducati e cercare tra virgolette di riciclarsi in altre scuderie Suzuki Aprilia senza mai trovare la quadra del cerchio ed è veramente un peccato perché per talento Annone è uno dei più bravi piloti che ci siano in circolazione ricordiamo che Annone in Moto2 era uno di quei pochi che batteva sistematicamente Mark Marquez quindi per darvi un attimo l'idea del talento e della caratura di questo pilota chiudiamo la panoramica sulla MotoGP con la KTM KTM che presenta quattro vetture anzi motociclette meglio ovviamente partendo dal team ufficiale team ufficiale che vede nel pilota di punta Paul Spargaro il fratello minore di Aleish appunto il riferimento della casa austriaca che promuove direttamente dalla Moto2 Brad Binder sudafricano pilota molto talentuoso e molto bravo che con quel cancello che era KTM in Moto2 l'anno scorso addirittura ha vinto qualche gara segno che Brad Binder è tutto fuorché un pilota fermo vengono di fatto promossi in MotoGP oltre a Brad Binder anche Iker Lecuona altro pilota della Moto2 e viene confermato Miguel Oliveira che in teoria doveva essere lui ad andare nella KTM ufficiale invece gli è stato preferito Binder Oliveira continuerà il suo percorso di crescita nel team clienti Tech Troyes dunque confermiamo 22 piloti in partenza per il campionato mondiale MotoGP che partirà in Qatar l'8 di marzo insieme alle altre categorie soprattutto Moto2 e Moto3 che seguiranno lo stesso calendario ci sarà anche la MotoE ma soltanto questa in alcune gare quindi velocemente parliamo anche della Moto2 Moto2 che conferma i 32 piloti di fatto presenti l'anno scorso in Griglia con delle importanti novità soprattutto appunto riguardanti il team Mark VDS che è il team che è più titolato ovviamente in Moto2 doveva esserci Alex Marquez che originariamente non doveva andare in MotoGP appunto perché Lorenzo aveva un contratto pianale poi visto il ritiro di Lorenzo la scuderia belga è andata a correre diciamo ai ripari e ha inquistato Augusto Fernandez che secondo me è il principale candidato a vincere il titolo di Moto2 perché già l'anno scorso ha avuto una grandissima crescita il pilota che all'epoca correva con il team Pons effettivamente Fernandez è giovane è talentuoso e potrebbe ambire al titolo il combattio di squadra è Saponetta Sam Lowe un pilota che è più per terra che in pista speriamo che possa comunque trovare la quadra perché anche il fratello di Alex che corre in superbike è un pilota fermo a tenere d'occhio ovviamente nella Moto2 visto che appunto è una categoria dove lui è specialista il venerabile maestro Thomas Lutti che ancora una volta è arrivato nelle prime tre posizioni in un mondiale evidentemente lo svizzero è specialista in queste categorie ed è molto più un piazzato che un vincente ma provate a spostarlo uno come Lutti come poi di squadra di Lutti è Master Schroeter altro ultra veterano di questa categoria chi potrebbero essere gli altri favoriti è difficile indicarne qualcuno è cresciuto sicuramente Orca Navarro con la Speed Up insieme anche a Fabio Di Gianantonio che appunto sarà la sua seconda stagione in Moto2 Orca Navarro secondo me potrebbe essere un incredibile contender a Fernandez visto che Alex Marquez è andato via vedo più un affare spagnolo in questa Moto2 piuttosto che un affare italiano italiani che comunque sono talmente presenti in categorie questo è sicuramente positivo Di Gianantonio per esempio è il primo confermato su Speed Up che tra l'altro schiera 4 moto perché è salito il campione di il vice campione scusatemi di Moto3 Aaron Canetti insieme a Haviziarin che torna indietro dalla MotoGP gli altri italiani dicevo con MV Agusta Team Tutto Italiano con Stefano Manzi che ha fatto una discreta stagione nel 2019 insieme a Simone Corsi l'ultra veterano italiano da una vita corre in Moto2 ha corso per Forward ha corso per il Team Tasca ha corso adesso per MV insomma veramente tante gare alle spalle per il pilota romano gli altri italiani presenti lo Sky Racing Team VR46 presenta Marco Bezzecchi che deve riscattarsi dopo una stagione scorsa con KTM TEC3 veramente orrenda e Luca Marini che è il fratellastro di Valentino Rossi che potrebbe essere lui la speranza italiana probabilmente insieme forse di Gianantonio per un'eventuale competizione al titolo del mondo altri italiani presenti il Team Italtrans Coppa italiana il Bestia di Rimini Enea Pastellini confermato ancora in Moto2 dopo una grande stagione l'anno scorso io spero veramente che il Bestia riesca a confermarsi sui livelli dell'anno scorso se non a migliorare qualcosa in più esordisce in Moto2 il campione mondiale di categoria Moto3 Lorenzo dalla porta che passa a Italtrans gli ultimi due italiani in gara sono Lorenzo Baldassari confermato nel Team Pons Coppa di squadra di Baldassari è Hector Garzò che viene dalla MotoE e ultimo italiano Nicola Bullega uscito dalla VR46 e chiesi a casa al Team di Gresini che schiera Edgar Pons come compagno di squadra figlio di Sito per quanto riguarda gli altri costruttori confermata NTS moto giapponese che costruisce Telai di fatto per Moto2 conferma Jesko Raffin che era il terzo pilota della scuderia giapponese insieme a Bonbenzneider pilota olandese essendo che la scuderia è RV Racing olandese conviene avere un pilota olandese in scuderia Bonbenzneider comunque è un pilota che ha vinto la Rookies Cup della Red Bull qualche anno fa importante sottolineare che il Team Ayo che è presente in tutte e tre le categorie di fatto del Moto Mondiale non è più con KTM KTM che si è ritirata come telaista e schiera una squadra di tutto rispetto con Tetsuta Nagashima che viene dal team Stop&Go insieme a Org Martin Team Stop&Go che conferma Remy Garner attenzione a Garner su alcune gare può essere un pilota addirittura da poi o se non da vittoria con un esordiente assoluto che è Casma Daniel Casma Yuddin pilota malese tutti gli altri piloti li vedete in grafica passiamo alla Moto3 una Moto3 che sicuramente è una categoria molto più equilibrata al momento che molti piloti competitivi in Moto2 sono passati alla categoria superiore ci sono tre costruttori e non due perché si aggiunge Usquarna che di fatto è sempre del gruppo KTM anche se Usquarna batte bandiera svedese soltanto due piloti perché è un team solo ovvero il team di Max Biaggi che l'anno scorso aveva Aaron Canette quest'anno schiera Alunzo Lopez e Romano Fenati ci sono anche in questo caso un fottio di italiani Dennis Foggia è uno di questi che esce dalla VR46 e passa al team Leopard uno dei team più quotati in Moto3 e il team Leopard quest'anno è interessante tenere d'occhio perché non solo è campione in carica di categoria ma schiera come Masia che potrebbe essere probabilmente uno dei favoriti a questo campionato del mondo dicevamo gli altri italiani altra stagione per Niccolò Antonelli uno dei piloti più esperti della categoria insieme a John McPhee che ancora una volta è confermato nel team Petronas il pilota scozzese altri italiani Tony Arbolino ha fatto una grande stagione lo scorso anno che è arrivato terzo nello scorso mondiale e vorrebbe essere lui l'italiano su cui puntare per vincere il mondiale è Tony Arbolino che è compagno di squadra di Philippe Salac pilota della Repubblica Ceca il team di Aleix Spargaro vede un ritiro che è quello di Macari Urchenko oltre a quello di Philippe Corfe nella Moto3 di fatto anche qui c'è un team tutto italiano con Davide Pizzoli che ha fatto qualche comparsata lo scorso anno insieme a Riccardo Rossi che in qualche modo rientra dalla finestra nel mondiale Moto3 Stefano Nepa è confermato in Moto3 passa al team Aspar e gli italiani di fatto si chiudono con il team Sky con Andrea Migno che torna dove ha vinto l'unica gara in carriera di Moto3 insieme a Celestino Vietti altro pilota che se continua a crescere potrebbe regalare all'Italia un ennesimo mondiale Moto3 sottolineo un'ultima cosa da notare che c'è già un pilota sostitutivo in questa Moto3 ovvero Dirk Geiger che sostituisce il pilota belga Barry Baltus è una sostituzione del team Prustel che schiederà con appunto due piloti KTM Dirk Geiger correrà le prime quattro gare il pilota tedesco al posto di Barry Baltus pilota belga perché Barry Baltus non avrà ancora compiuto il limite minimo di età per competere in queste competizioni Geiger è un pilota comunque molto giovane che farà qualche esperienza lo rivedremo nelle prime quattro gare stagionali quindi fino all'Argentina e il compagno di squadra prima di Geiger e poi di Barry Baltus sarà Jean-Luc Pasquier pilota svizzero anche lui all'esordio passiamo alla MotoE MotoE che è l'ultima categoria delle quattro presenti in questo MotoMondiale che correrà soltanto qualche gara spot si parte il 3 maggio in Spagna e si chiuderà a Valencia il 14 e 15 di novembre sono tante conferme rispetto alla scorsa stagione che ha visto il trionfo di un italiano Matteo Ferrari alla prima stagione di MotoE il pilota romagnolo si è giudicato il titolo della Coppa del Mondo Matteo Ferrari che viene confermato nel team Grisini campione in carica di fianco a un altro italiano ovvero Alessandro Zaccone che viene dal CEV Moto2 così come viene dal CEV Moto2 Tommaso Marcon altro italiano veneto che corre con il team Tech3 con paura di squadra sarà Lukas Tullovic che doveva correre il Mondiale Supersport ma visti i problemi di Kiefer Racing si ritrova a correre in MotoE Kiefer Racing aveva tesserato Tullovic e Thomas Gradinger rimasti a piedi per questo Mondiale ultimo italiano di passaporto almeno è Nicolo Caniva che viene confermato nel team di Cecchinello insieme a Javier Simeone che appunto fa la sua seconda stagione in MotoE l'ultimo italiano di fatto anche se batte bandiera san marinese è il leggendario Alex De Angelis confermato nel team Pramac insieme a Joshua Hook pilota australiano gli altri piloti al volo Nicky Tulli è il finlandese volante confermato nel team Ayo il team Avintia andorrano di bandiera schiera un andorrano ovvero Xavi Cardelus che esce dalla Moto2 in compagno di squadra di Eric Granado che ha fatto qualche cosa interessante la scorsa stagione sempre in MotoE dalla Moto2 arriva Dominic Gerter che di fatto corre per il team Dynavolt scongelato di nuovo dal freezer dopo la scorsa stagione Mike Di Meglio che ha fatto una buona stagione in MotoE l'anno scorso e ritorna in questa stagione 2020 Jordi Torres oltre a correre la Superbike a quanto pare correrà anche la MotoE con il team Pons Bradley Smith confermato nel team Petronas dimenticavo l'ultimo italiano Mattia Casadei confermato nel team di Paolo Simoncelli chiudiamo con il team Aspar che schiera Alejandro Medrina pilota che ha fatto qualche comparsata in Moto2 e con mia moglie ma che lei ovviamente non lo sa e non lo potrà mai sapere ovvero Maria Herrera che viene confermata anche in questa giovane categoria per la seconda stagione veramente anche qui sarà una categoria di contorno per carità ma comunque molto interessante sono gare veramente molto brevi che durano dai 5 ai 7 giri dove veramente le moto sono abbastanza tutte equilibrate essendo di fatto un monomarca e un monogomma le moto sono della ego energica società italiana e ci sarà da divertirsi in 7 appuntamenti stagionali e dunque fatemi sapere cosa ne pensate in generale di tutte queste considerazioni che ho detto soprattutto secondo voi che potrà essere il favorito del mondiale MotoGP e anche delle altre categorie e ci vediamo la prossima settimana dove parleremo del campionato che segue maggiormente vale a dire la Formula 1 e anche lì ci sarà tanto da dire il saluto da parte di Mediutorgard e ci vediamo dunque al prossimo video e ci vediamo